Andrea Camilleri ha dipinto un personaggio molto azzeccato, molto azuccato proprio perché ci risulta un po' a tutti familiare. Se dovessi proprio indicare la cosa più bella che mi piace di questo personaggio è che è un personaggio che non ha il cartellino con il prezzo attaccato alla giacca, non è una persona che si vende. Lui è fedele a se stesso, è coerente con quello in cui crede profondamente e non c'è niente e per nessun motivo e a nessun prezzo cambierebbe idea. È un uomo che ha una grande giustizia dentro di sé, cerca quantomeno di essere una persona equa, giusta ed è capace anche di riconoscere i propri errori, cosa che è molto difficile oggi come oggi da fare. Diciamo che è un personaggio che ha dei pregi altissimi e dei difetti, noi lo amiamo anche per i difetti che ha, per il fatto di essere ogni tanto irrascibile, per le sfuriate che fa ai suoi colleghi, per il fatto che è goloso, per il gusto del cibo. Il suo amore per la vita, il suo vivere fino in fondo, essere uomo sicuramente sono uno dei tratti che ce l'hanno reso caro e poi ovviamente sono invece tutte quelle qualità che lo rendono uno straordinario uomo delle istituzioni. Il grande merito di Andrea Camilleri è nell'aver colto la funzione che una polizia secondo me dovrebbe avere all'interno di una società, che è non solo quella di reprimere ma anche quella di capire, di ascoltare. Credo che l'elemento di maggiore ricorrenza sia il tratto dell'umanità. Io credo che Montalbano, il commissario Montalbano, raggiunga i cuori degli spettatori perché è una persona intanto non distante, è una persona che vive il proprio tempo, che vive i problemi del proprio tempo, che vive le passioni del proprio tempo, che vive le contraddizioni del proprio tempo e quindi questa straordinaria capacità di entrare in sintonia con quello che è il mondo circostante è fondamentale. La penna di Camilleri che attenzione ancora scrive, quindi il personaggio si modifica così come si modifica il nostro paese, così come si modifica la nostra vita e quindi questo in qualche modo contribuisce a tenere accesa l'attenzione. È la serie televisiva più venduta, più amata in Italia, in Europa e nel mondo, in ben 65 paesi e ha conquistato il cuore di più di un miliardo di spettatori. Ma qual è il segreto? La polizia. Grazie.